Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale spero che siete bene e che stiate trascorrendo un buon sabato in questo video voglio un po' parlare di un giocatore però voglio anche collegare appunto questo giocatore a delle vicende di mercato che potrebbero diciamo prendere forma e in tal caso stiamo parlando della squadra del Cagliari come sapete Nathan Nandez è finito nelle ultime settimane sotto l'osservatorio interista nel senso che l'Inter vorrebbe puntare sul giocatore del Cagliari appunto per dare più qualità e per dare anche ulteriori quantità al centrocampo interista sembra che il duo Marotta-Osilio stia premendo su Giulini però ad ora ancora non c'è niente di fatto nel senso che giustamente Giulini nicchia perché perdendo Nandez va a perdere sicuramente un importante giocatore di contro c'è la vicenda Lengolan che sembra che potrebbe svincolarsi all'Inter per poi andare al Cagliari oppure magari ripetere un prestito però con l'ingaggio pagato in parte all'Inter io propendo onestamente anche perché così sembra mi sembrano le news di portare appunto la presa di questa strada dello svincolo Lengolan per poi fare ritorno per l'ennesima volta in Sardegna all'inizio video però come sempre vi raccomando di lasciare un like iscrivervi al canale e attivare la campagna grigi e le notifiche per ricevere tutte le news dal canale date uno sguardo anche il mio secondo canale in set football dove parlo di calcio soprattutto italiano ma in inglese dopo questa breve parentesi torniamo a noi qualora poi il Cagliari dovessere perdere Nandez è da vedere poi le cifre perché comunque giustamente d'accordo che Giulini sembra di essere anche di fede interista ma non è che poi lascia andare i giocatori così bisogna vedere sempre le cifre però pare che sia stato trovato un eventuale sostituto e sembra questo sostituto essere Martín Ismael Paiero del Banfield, giocatore argentino appunto di città del Banfield il canale due stagioni passato in prestito al Taieres un centrocampista centrale che però è molto diverso molto diverso da Nandez è molto più di corsa, molto più di dribbling, molto più di scatto che può giocare ancor più di Nandez sulla fascia destra perché c'è un passo completamente diverso e ha caratteristiche offensive d'ala un po' più rispetto a Nandez fisicamente molto diverso perché Nandez è 1,72 mentre Paiero è 1,82 quindi 10 centimetri in più fanno anche la differenza a livello di corsa mi ricorda molto il Coco la Mela però di piede destro deve migliorare assolutamente però il feeling col gol per un concettacampista offensivo che sia mezzala, che sia stava d'attacco che sia un numero 10 deve segnare più gol non può giocare magari 30 partite e segnarne due perché altrimenti non costituirebbe quel valore in più per la squadra lui appunto è abile a giocare sia come mezzala che come esterno a questo punto però mi incuriosisce il fatto che ci sia semplice in panchina penso che lui l'anno scorso ha giocato con un 3-4-1-2 quest'anno sicuramente vedremo il vero Cagliari semplici perché l'anno scorso è subentrato in una situazione veramente critica ma ora vedremo effettivamente il vero Cagliari appunto del tecnico expal partendo però dal modo 3-4-1-2 che ha adottato l'anno scorso dove metterlo? non è un tornante di un centrocampo a 4 però è più mezzala che numero 10 da centrocampista centrale secondo me non può giocare come un interno a 2 perché le sue sgroppate, la sua corsa, la sua capacità di dribbling e di ripartenza o è dietro, è un uomo d'equilibrio un uomo d'equilibrio ma veramente tanto d'equilibrio o comunque deve avere una qualità allucinante ma in tutto il centrocampo e soprattutto nella difesa per dare appunto questo equilibrio e io non ce lo vedo come interno a 2 quindi è da vedere un pochino come verrebbe eventualmente impiegato anche perché diciamo che molti soldi delle eventuali cessioni in Andez potrebbero mettersi da parte perché comunque il Banfield ha stabilito un prezzo di circa 5 milioni di euro quindi veramente un prezzo esiguo per un 98 tra l'altro quindi ecco questa cosa un po' mi stupisce anche perché poi dietro probabilmente se ne andrà Godin che sembra ormai essere un po' un peso se è andato Clavan se ne è andato anche Rugani perfine presto è tornato a Juventus insomma una squadra un po' da rifondare adesso staremo a vedere perché sicuramente Pajero è un giocatore interessante futuribile che se poi magari ti dovesse andare male come investimento magari poi in Argentina o ripiazzi in un qualche modo soprattutto se magari rende bene se migliorerà il punto di vista realizzativo e anche di Assi stavolta però comunque le potenzialità ci sono bisogna lavorarci staremo a vedere staremo a vedere che mi incuriosisce molto questa cosa in primis e poi in Andez effettivamente lascerà la Sardegna per approdare a Milano staremo a vedere certo e anche perché poi a proposito si parla di un'operazione alla barella quindi di un prestito neroso poi con un obbligo di riscatto staremo a vedere staremo a vedere ma sicuramente qualora l'Inter dovesse prendere Nandez con un barella e con un Nandez che danno quantità e qualità e un Cianoglu che più Cianoglu è più niente perché cioè in 4 anni ha giocato 6 mesi meno al Milano però vabbè diciamo così diciamo che con Nandez e barella l'Inter farebbe un buon centrocampo da vedere poi come schierarlo ma comunque un buon centrocampo sicuramente Nandez sarebbe un esterno di molta gamba cosa che non sarebbe Pagliero per il Cagliari ovviamente questo video spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile anche per capire un pochino chi potrebbe essere questo nuovo acquisto del Cagliari vi raccomando come sempre like iscrizione campanellina e passate dare uno sguardo a Inside Football vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi